Né io né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti, così sei un vincente e se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo vince solo se sa resistere, non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia, i vigliacchi fanno così e tu non lo sei, non lo sei affatto! Rocky Balboa che è il nome del protagonista ma anche il nome del film in questione, sesto capitolo di quella che è insomma una delle serie che ha fatto la storia del cinema e che ci ricorda come anche negli investimenti insomma c'è da prenderci le proprie responsabilità quando è il momento e anche non insomma farsi abbattere, non cercare scuse quando le cose magari non vanno per il verso giusto, è il momento di prendersi le proprie responsabilità e questo possiamo anche declinarlo al tema che affronteremo questo pomeriggio e cioè in questa nuova tavola rotonda per quanto riguarda l'Asset TV Week il tema ESG in un contesto molto delicato, molto delicato chiedo scusa, tra guerra e climate exchange, materie prima il tema è molto sentito perché forse mai come in questo periodo insomma l'argomento ESG e climate exchange cominciamo a vederlo proprio attraverso i nostri occhi nell'attualità anche più stretta, insomma basti pensare al prezzo del caffè che è decollato perché per insoliti piogge, insomma un insolito clima secco che ha coinvolto il Brasile, tra i paesi più coinvolti nella produzione di caffè o anche la questione dei microchip che dipende anche da quanto accaduto a Taiwan, una siccità mai vista prima e per produrre microprocessori Taiwan che è il primo nel mondo, tra i primi nel mondo viene impiegata una grande quantità di acqua, acqua che evidentemente è venuta meno in qualche modo a livello di disponibilità per la realizzazione e la produzione di microchip e questo ha causato appunto l'aumento dei prezzi o anche la carenza insomma di prodotti da questo punto di vista. Ma questi sono solo degli esempi, parleremo di ESG su più fronti con l'aiuto e la preziosa testimonianza dei nostri ospiti che vi presento Davide Mascheroni, responsabile Aga Partner Commerciali Etica SGR, buongiorno Davide. Buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento anche a Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board Member Amundi SGR, buon pomeriggio anche a Paolo. Buongiorno a tutti voi. E un saluto e un ringraziamento a Christophe Mallet, Head of International Business Development Office Asset Management. Buon pomeriggio Christophe. Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo allora, cominciamo a cercare in qualche modo di approfondire il tema molto sentito sempre più presente a livello di investimento e a livello proprio di attualità. Ma vorrei cominciare con una breve domanda e quindi anche vi chiedo una breve risposta che voglio rivolgere a tutti. Tra pochi giorni, il 10 marzo, per chi ci segue in diretta, si festeggia il primo anno di entrata in vigore della normativa europea per gli investimenti sostenibili. E allora cosa è cambiato in questo anno? In particolare è interessante capire e vi chiedo il vostro parere su da cosa è cambiato nell'approccio alle tematiche di sostenibilità all'interno dell'industria e dell'asset management, ma anche se ci sono già evidenze che si possono raccontare sul cambiamento all'interno delle aziende e degli altri settori. Cominciamo da Davide Mascheroni. Prego a lei la parola. Eccoci, adesso ci sentiamo. Ok, diciamo che sicuramente i cambiamenti ci sono stati, i cambiamenti sono stati notevoli. Noi come Etica SGR siamo presenti proprio sul mercato degli investimenti sostenibili e responsabili fin dalla nostra nascita e fin dalla nostra nascita proponiamo esclusivamente fondi etici, fondi che tra l'altro, visto che abbiamo citato l'SFDR, sono stati classificati come sostenibili appunto ai sensi di questa nuova normativa. Quindi nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito un po' da una impostazione privilegiata a questo crescere, una crescita dell'industria ovviamente del mercato dei fondi sostenibili e responsabili, un proliferare per certi versi anche di soluzioni ISG, di soluzione SRAI. Prima era un mercato sicuramente con pochi attori, tra cui appunto Etica SGR, ma questa crescita per noi è qualcosa di positivo perché tanti asset manager si sono accorti forse che nelle scelte di investimento per dare redditività al cliente nel medio e lungo termine è opportuno sicuramente oltre alla dinamica, oltre diciamo alle caratteristiche finanziarie dell'investimento guardare anche a quelle che magari sono gli impatti ambientali e sociali delle scelte appunto di investimento. Quindi sicuramente un aspetto molto positivo, poi se entriamo un pochettino più nel concreto, questa crescita ha determinato ovviamente un'attenzione particolare, ha catalizzato l'attenzione della comunità europea che soprattutto ha cercato di mettere una serie di obblighi informativi per due motivi. Il primo è garantire la piena confrontabilità tra quelle che sono fonte di investimento ISG ma comparabili e dall'altro, questo a beneficio sicuramente dei consulenti e dei clienti, e dall'altro sicuramente anche rendere questo sviluppo del mercato un pochettino più organico e omogeneo, evitare quelli che possono essere episodi come magari appunto il greenwashing a cui periodicamente assistiamo. Un'altra cosa secondo noi molto importante per Etica SGR è che la SFDR ha parlato per la prima volta di definizione condivisa di investimento sostenibile, quindi un investimento che viene effettuato in attività che rispettano l'ambiente, a favore ovviamente che cercano di ridurre le disuguaglianze sociali e per certi versi anche migliorare l'integrazione in un contesto di buone regole di governance. Quindi per noi come Etica SGR non è stato altro che l'SFDR un momento per rinsaldare se vuoi o addirittura andare a riposizionarci, riconfermare quello che è il nostro impegno verso l'investimento etico. Riputiamo che sia sicuramente un buon punto di partenza, la strada imboccata è quella giusta, ma molto si potrebbe fare secondo noi ancora in termini di maggiore partecipazione, trasparenza e coerenza, proprio per rendere appunto le scelte dei risparmiatori ancora più consapevoli e orientarle ancora di più verso la sostenibilità. Caso di SGR mi sento di dire per noi poi appunto l'investimento sostenibile non è un business, è diciamo così la mission della nostra società, nasciamo proprio ed esclusivamente per propuovere la finanza etica sui mercati finanziari tramite la gestione di fondi comuni di investimento sostenibile e responsabile, è quello che abbiamo sempre fatto per noi, quindi non significa solo avere N prodotti a scaffale, ma significa proprio andare sulla sostenibilità rendendola diciamo così sicuramente integrante in quella che è l'organizzazione anche in termini di governance aziendale, in tutto il processo di investimento e proprio nella strategia di sviluppo della società. E allora sentiamo anche sul tema appunto dell'SFDR, sentiamo anche Christophe Malechi, come detto Head of International Business Development Office Asset Management. Christophe? Grazie, dunque la regolamentazione SEFDR ha portato un cambiamento radicale nel settore dell'asset management, infatti le misure previste in questa nuova normativa riguardano tutti gli attori del mercato finanziario e devono essere seguite e rispettate con attenzione da tutte le società di risparmio. Possiamo dire che si tratta veramente di un verso punto di svolta per l'industria, la nostra industria, è il primo atto di un profondo cambiamento in Europa. Credo che sia molto importante ricordare a coloro che ci ascoltano che si tratta infatti dell'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte delle società di gestione su temi molto importanti come gli obiettivi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione o il mettere in pratica e rendere conto di politiche di engagement verso le aziende in cui investiamo. Dobbiamo anche tenere in considerazione i rischi legati alla sostenibilità quando si prendono le decisioni legate alla gestione del fondo. Dunque bisogna dire che la regolamentazione SEFDR istituzionalizza politiche e misure che sono già attuate da alcuni anni da diverse sociali di gestione, quelle che sono le più avanzate nel campo degli investimenti SRAE. Dunque l'obiettivo finale che si pone è quello di creare un'industria che sia più trasparente rispetto alle azioni prese nei confronti dell'investitore finale, che sempre più richiede attenzione da parte dei fondi di investimento sulle aziende in cui investiamo. Dunque tutte le società di gestione e risparmio gestito devono quindi riportare come integrano criteri extrafinanzieri legati all'impatto sulla sostenibilità nel processo decisionale investimento e fornire informazioni sui principali impatti negativi di queste decisioni. Di più la regolamentazione SEFDR ha portato a distinguere i fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali che sono classificati come articolo 8 e da quelli che presentano un obiettivo di investimento sostenibile che sono invece classificati come articolo 9. Questa classificazione consente una maggior trasparenza nei confronti dei clienti e di investitori. Come AFI Asset Management abbiamo lavorato per implementare nuove pratiche, nuovi criteri di esclusione ancora più rigidi per rafforzare la solidità e la trasparenza dei nostri processi di investimento. Ad oggi la nostra offerta prevede 34 fondi articolo 8, 11 articolo 9, una gamma complessiva di 45 fondi. Rispetto alle società in cui investiamo teniamo anche il conto della nuova direttiva SSRD del 21 aprile 2021 che modifica anche i richiesti di rendicontazione. Tutto questo contribuisce ad aumentare la trasparenza a cui sono tenute le società di gestione. Dunque, in conclusione, direi che abbiamo accolto con soddisfazione tutte queste misure volute a livello europeo perché hanno regolamentato tutta una serie di regole e misure che, come AFI già da anni, noi attuavamo nei nostri processi di investimento. Ma siamo tra le società che da anni fanno degli investimenti e sarà un loro tratto distintivo. Sappiamo che queste nuove regole, in verità, permetteranno di offrire un migliore servizio agli investitori. E chiudiamo il giro, grazie Cristof, con Paolo Proli, Amundi, SGR. Paolo. Sì, confermo tutto quello che è già stato detto dai colleghi. In effetti, la data di svolto non è solo esclusivamente quella dell'anno scorso con l'introduzione dell'SFDR, ma direi che il percorso di sostenibilità è partito decisamente prima, prima sulle aziende in modo tale da poter riclassificare con la direttiva della rendicontazione non finanziaria, quindi l'NFR, di la possibilità di ricevere informazioni da una matrice di materialità da parte delle aziende, non solo del loro bilancio finanziario, ma soprattutto dell'incidenza del loro bilancio non finanziario. Questo ci permette ovviamente come società di gestione di catalogare le aziende sulle quali andiamo ad investire in nome per conto dei nostri clienti, non solo per l'obiettivo di massimizzazione del loro utile, ma sempre di più nell'obiettivo anche di impatto che queste possono avere interno ed esterno alla società, lungo tutta la filiera. Questo permette alle grandi aziende, in questo caso a Mundi, che è il leader europeo di risparmio gestito con oltre 2 trilioni, di arrivare pronti all'SFDR dell'anno scorso, non tutte le aziende mondiali lo sono, perché io vorrei sottolineare che qui oggi abbiamo rappresentanti di realtà europee e italiane molto importanti e che dedicano da tantissimi anni la focalizzazione della sostenibilità come un elemento di risk allocation in portafogli, non solo con l'esclusione, ma proprio invece con l'integrazione di un processo ESG proprietario. Ad esempio in Amundi, non a caso, siamo arrivati ad essere la società di gestione con maggior numero di fondi, articolo 8 e 9, proprio a marzo dell'anno scorso, con oltre 770 fondi e 800 miliardi di euro in gestione. E con un numero impressionante di raccolta ESG dell'anno scorso, nel 2021 abbiamo raccolto 25 miliardi di euro di nuova raccolta, proprio su strumenti classificati ad integrazione ESG, quindi non solo ad indicazione del rischio e degli effetti di rischio della sostenibilità e ad impatto. Ecco l'articolo 9, tra le altre cose, penso che in quest'ultimo anno ci ha fatto già intravedere anche quelli che saranno i prossimi step sulla sostenibilità, anche perché la normativa è in fieri, la tassonomia che sta arrivando si sta disciplinando, perché oggi abbiamo solo mitigazioni e adattamento che sono disciplinati, però dovremo poi parlare molto meglio di uso della sostenibilità, di transizione, dovremo parlare meglio di inquinamento e disciplinare anche appunto la protezione della biodiversità, che oggi non essendo ancora esplicite in sede di commissione ci rendono difficile la classificazione delle aziende. Io penso solo che se guardo l'MCI World che cosa oggi è allineato ai principi della tassonomia, in base a quello che sappiamo ad oggi abbiamo solo il 3% dei titoli totali, quindi come si diceva prima siamo all'interno di un percorso, di un viaggio che è iniziato, è iniziato molto bene con entusiasmo da parte delle società di gestione che sono un po' più avanti in questo ovviamente, quindi direi almeno quelle europee, le americane penso che adesso pian pianino cercheranno di seguirci perché non lo hanno fatto magari prima sul loro territorio e distribuendo in Europa ovviamente devono un po' rincorrere quella che invece è l'impegno europeo e non a caso la tassonomia è europea e non americana da questo punto di vista, ma penso che arriveranno in fretta anche loro a colmare questo gap. Oggi noi forse in una condizione di vantaggio competitivo, però possiamo continuare a tracciare la strada, probabilmente anche accelerando il percorso non più solo dell'integrazione che è già stato fatto da noi, ma veramente portare avanti i temi di transizione energetica, di coesione sociale con le politiche di impatto alla massima potenza. Ecco, non a caso anche noi, ma poi forse ci torneremo più avanti, abbiamo voluto cambiare nel nostro piano triennale proprio la semantica da integrazione di sostenibilità, da accelerazione. Beh, però li rimango allora da lei, dato che ha accennato anche al piano triennale, Amundi ha presentato il nuovo piano ESG 2025, un'iniziativa partita nel 2018, lo scopo dare obiettivi concreti a tutta la società e i suoi dipendenti nei confronti delle tematiche della sostenibilità. Prima di tutto le chiedo allora di fare un bilancio, insomma, sul raggiungimento del piano 2018-2021, come si dice in questi casi obiettivi raggiunti, e la seconda domanda relativa ai nuovi obiettivi che vi siete dati, quali sono e come intendete raggiungerli. Poi sentiremo anche Mascheroni e Mallè su altri temi attinenti, ma ripartiamo da qui. Proli? Mi fa particolarmente piacere poter fare anche una sintesi del precedente piano, perché appunto nel 2018, in anticipo rispetto all'arrivo dell'SFDR, c'eravamo dati tre anni di tempo per integrare tutto il nostro processo proprietario ESG all'interno della filiera di produzione e di risparmio gestito complessiva della società. Ce l'abbiamo fatta, perché appunto, come dicevo, siamo arrivati poi a marzo dell'anno scorso con un numero impressionante di fondi che avevano già integrato tutto il nostro processo proprietario, in questo diciamo che sicuramente la fortuna di essere una società di origine francese, la più grande in Europa oggi, ma che ci ha permesso magari di partecipare per primi ad esempio all'assegnazione e alla firma dei principi di responsabilità, piuttosto che lavorare con Ban Ki-moon per lanciare il primo portfoglio del Carbonization Coalition storico in Europa. Ci ha permesso di portarci avanti e di poter integrare i principi di sostenibilità all'interno della selezione delle aziende, con la possibilità di fare un ranking proprietario, uno scoring che non è solo acquisito dall'esterno, come la stragrande maggioranza delle società, oggi hanno bisogno di data provider che danno un giudizio quantitativo e qualitativo di quelli che sono i numeri presenti all'interno delle aziende. Amundi ha un proprio team ISG che riesce a fare quindi un'analisi quali quantitativa, fare un assessment cosiddetto sui giudizi qualitativi che a mercato sono disponibili delle aziende, poter quindi metterle in una graduatoria per certificare dalla A alla F, che è la nostra scala interna, quanto oggi una società è già ISG winner o meno. In questo si può ovviamente costruire una filiera di adattamento ai portafogli che non sia solo l'esclusione o l'inclusione del criterio ISG, ma si può fare ad esempio improvers, non a caso anche Amundi ha lanciato per prima in Europa il concetto di investire in quelle aziende che hanno già un buon giudizio qualitativo ISG, oltre che economico e di dati di bilancio, ma che stanno migliorando e che magari hanno delle dichiarazioni di intenti che non sono presenti nel dato dello stato patrimoniale negli utili, ma sono presenti invece nella politica di sviluppo dell'azienda, che non è sullo stesso documento. Per cui essere stati in grado di integrare tutto in questi tre anni è stato fondamentale ed è per questo che il prossimo piano, quindi quello 2025, non ci deve più vedere coinvolti semplicemente nella riclassificazione dei fondi, come penso ancora oggi la maggior parte del mercato stia ancora lavorando. Noi ci possiamo permettere di andare oltre, per cui il nuovo piano triennale prevede un'accelerazione di questo, tanto è vero che come Amundi, come impegno abbiamo lanciato un nuovo obiettivo di net zero carbon al 2050, che prevede quindi anche la possibilità di creare una famiglia per tutte le asset class globali, bond, equity, multi assets, che riescano a decarbonizzare il portafoglio con un rigido processo proprietario di decarbonizzazione entro l'obiettivo del 2050, come è siglato la COP21 di Parigi. In questo quindi andremo ad allargare la gamma di prodotti sostenibili con transizione ambientale al core del loro portafoglio, oggi abbiamo già 400 miliardi di fondi che comunque integrano questo obiettivo. All'interno di questo andremo a sviluppare quindi tutta la gamma proprietaria di prodotti, anche nella parte passiva, sapete abbiamo anche recentemente concluso l'acquisizione dell'Xor, quindi siamo al 25% del mercato passivo europeo e quindi Amundi ETF raggiungerà come obiettivo entro questi tre anni di avere il 40% del patrimonio posizionato sugli strumenti ISG ed etici della famiglia prodotto anche passiva e andremo ad onbordare la parte tecnologica di Amundi Technology come piattaforma con i nostri criteri interni di sostenibilità e quindi la possibilità di fare sharing dei ranking anche dei data provider proprietari e dei nostri giudizi con i partner di commercializzazione dei nostri prodotti. Per quanto riguarda invece le aziende abbiamo già un engagement significativo come società ma dalle 400-450 aziende sulle quali abbiamo fatto engagement soprattutto sulla transizione e riduzione dell'emissione del biossido di carbonio, l'impegno nei prossimi tre anni è di aggiungerne più di altre mille, quindi con anche la condivisione di quella che sarà un'indicizzazione di decarbonizzazione proprietaria che Amundi includerà oltre ai suoi principi di sostenibilità nei processi di investimento e l'ultimo punto che però lo reputo fondamentale è la condivisione interna ed esterna proprio dei dipendenti di Amundi stessa. Amundi si adatta a degli obiettivi importanti, li sta comunicando ai propri dipendenti e li sta comunicando ai propri stakeholder e all'azionista, sono obiettivi di decarbonizzazione anche nell'attività dei dipendenti di Amundi, quindi le persone che lavorano in questa società si sono impegnate a decarbonizzare del 30% entro il 2025 l'emissione pro capite di biossido di carbonio con le proprie attitudini al lavoro, il proprio modo di utilizzare i veicoli per lo spostamento e quant'altro in modo tale da ridurre in maniera significativa in poco tempo l'impatto negativo nell'atmosfera e inserire dei KPI proprio anche sulle valutazioni per quanto riguarda la salary dei dipendenti con KPI sempre più stringenti che riguarderanno tutta la filiera di gestione, di marketing e di promozione dell'azienda e anche con rigidità rispetto diciamo al top management dell'azienda ci sarà il 20% della valutazione della retribuzione dei 200 KPI poli internazionali che verrà valutata proprio con obiettivi ESG espliciti che verranno inseriti nell'ambito della valorizzazione della persona durante l'anno solare. ESG ricordiamolo ancora cosa vuol dire environmental social governance e rimarrei a parlare della prima lettera dell'acronimo cioè environment Davide Mascheroni etica SGR, environment si traduce appunto come ambiente in particolare soffermiamoci su quella che viene chiamata carbon tax ossia una tassa che verrebbe applicata alle aziende nel momento in cui si producono CO2 nei loro processi industriali è un tema anche molto attuale una legge che non è valida ovunque anche tra i paesi che la applicano c'è una forte disparità e allora la domanda è Davide questo può essere una strada giusta per la lotta all'inquinamento e a questa domanda poi ne seguono anche altre due in realtà e cioè da una parte se eventuali tasse sulle emissioni non si traducano in un possibile ulteriore inflazione che è la parola chiave forse era la parola chiave fino a qualche giorno fa adesso la parola chiave purtroppo è guerra così insomma a livello di stretta attualità e l'altra domanda è a livello economico di performance quali sono i vantaggi per una società ad essere virtuosa e attenta all'ambiente che forse è una delle domande che si pongono di più ancora adesso insomma gli investitori. Tanta carne al fuoco Davide? Sì cerchiamo di sviluppare tutti gli argomenti allora per prima cosa la carbon tax è sicuramente una proposta di tassazione che è partita da una serie di economisti tra cui anche il premio Nobel dell'economia del 2018 William Nordhaus il meccanismo l'hai ricordato tu lo ricordo io abbastanza semplice potrebbe sembrare anche banale anche se poi di applicare anche le cose semplici non è poi di fatto necessariamente semplice quindi andiamo a tassare fondamentalmente le emissioni di anilide carbonica utilizzando un'aliquota che viene fissata dal governo. Qual è l'obiettivo ovviamente? Per prima cosa si porta le aziende a ridurre ovviamente la loro inquinamento a predisporre delle politiche di basso impatto climatico e di efficientare ovviamente il loro processo di business altrimenti incorrerebbero in una tassazione quindi in un costo giuttivo che ne minerebbe la redditività. Non soltanto dall'altro lato chi in camera quindi i paesi gli stati che in camera hanno le risorse derivanti da questa forma di tassazione sono quelli che poi possono finanziare dei progetti strutturali di transizione ecologica quindi mitigare l'impatto sul riscaldamento climatico cercare di proporre dei progetti di adattamento al cambiamento climatico soprattutto per le aree un pochettino più vulnerabili quindi un effetto duplice sì è un costo però è una strada virtuosa perché produce un impatto positivo a livello ambientale sociale e rende sicuramente la crescita più sostenibile quindi questo è diciamo così un po' quello che fa la carbon tax. Ovviamente la strada è sicuramente quella giusta non è l'unica strada che si può percorrere mi viene in mente per esempio la comunità europea che ha posto in essere invece un meccanismo che si chiama ETS quindi un meccanismo di scambio delle quote di gas clima alteranti in questo caso poniamo un tetto alle emissioni da parte delle grandi aziende di energia di carbonica non si può andare oltre questo tetto si parla di aziende appunto di grandi dimensioni aziende tra l'altro che fanno parte di settori ad alta intensità energetica se le aziende sforano il tetto ovviamente pagano un costo e questo appunto le rende meno redditive per contro dall'altro lato in questo caso le aziende più virtuose sono quelle che magari potranno utilizzare se le hanno queste quote che non hanno speso di emissioni di gas clima alteranti per poterle vendere sul mercato finanziario e quindi secondario scusate e quindi migliorare appunto la loro redditività quindi questi sono anche per esempio un altro modo per fare e ottenere lo stesso obiettivo comunque minimizzare quello che è l'inquinamento non c'è un'unica strada ma quello che sappiamo e qua un po' torno alle domande che mi faceva è che dobbiamo sicuramente fare in fretta oggi sì ci possono essere i costi da di breve periodo ci può essere anche dei tema come quello dell'inflazione però è un sicuramente un qualcosa che dobbiamo correre se vorriamo ovviamente non pagare quelli che possono gli effetti della nostra non scelta la scelta di non agire oggi può portare dei danni irreversibili può portare diciamo così infinitamente superiori a quelle che può essere eventualmente le dimaniche di periodo perché sappiamo che più si procrastina ovviamente la transizione ambientale più sarà difficile raggiungere gli obiettivi climatici posti dagli accordi di parigi quindi questo è un altro tema importante da ricordare e tenere ben a mente ecco l'ultima cosa per quanto riguarda i vantaggi delle società abbiamo già visto che ci sono dei cambiamenti in atto infatti ma non solo le società ma anche governi che stanno ponendo in essere delle politiche climatiche in linea con gli accordi di parigi che stanno cercando di centrare gli obiettivi di zero emissioni dal 2050 questo perché anche con tutto appunto il tema della finanza sostenibile responsabile dell'attenzione all'ambiente che sta crescendo saranno quelle che potranno nel medio termine attrarre ovviamente investimenti e quindi portare avanti il loro business nel tempo viceversa le aziende che oggi non incorrono il costo si di breve però automaticamente avranno secondo noi degli svantaggi competitivi importanti nel medio lungo termine questo ne minerà la redditività e quindi l'attrattività di queste aziende proprio per gli investitori Cristof continuiamo a parlare di climate exchange ovviamente grazie a Davide e al suo contributo sul tema spieghiamo bene al nostro pubblico le differenze che intercorrono tra le strategie di investimento tematiche su climate change e invece le strategie impact investing quali sono a suo parere le principali tendenze del mercato anche in relazione al comparto azionario e obbligazionario questo SRA è un termine molto ampio che in realtà comprende almeno tre approcci diversi differenti direi che l'approccio best in class che il primo consiste nella selezione dei titoli con le migliori valutazioni in ogni settore di attività sulla base dei criteri SG c'è l'approccio tematico come climatico che permette di distinguere le società attive su temi identificati come in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile in relazione a un tema o settore determinato e infine c'è l'impact investing che consiste nell'investire in società che generano un impatto positivo e misurabile sull'ambiente o sulla società e allo stesso tempo che permettono di realizzare una performance finanziaria. La regolamentazione SDR punta a far sì che gli investimenti possano generare un impatto sociale e ambientale positivo si fonda quindi sulla stessa logica che ha la base dell'impact investing è un approccio che è un doppio obiettivo favorire le aziende di successo che producono un impatto positivo e misurabile. In altre parole l'impact investing intende a dimostrare la sostenibilità di azienda attraverso l'impatto positivo che essa riesce a produrre sull'ambiente o sulla società. Si inserisce quindi perfettamente nella definizione propria dei fondi classificati come articoli 9. Dunque nel concreto come funziona? Il team di gestione analizza come il business di una società contribuisca a produrre un risultato positivo in termini di sostenibilità quanto sia profondo l'impatto positivo che è capace di produrre e l'impegno messo in campo. Possiamo quindi dire che l'impact investing è interessato a valutare l'intenzionalità delle loro aziende nel produrre un impatto positivo legato al proprio business model. Riguardo la seconda parte della domanda dobbiamo dire che l'approccio SRAE sta portando enormi evoluzioni in termini di trend che rileviamo sia in ambito azionario che obbligazionario dove ad esempio possiamo già rilevare un'offerta sempre più crescente di green bonds. Ma io direi che è molto probabile che nuovi cambiamenti avranno a breve soprattutto in relazione alla tassonomia che porterà a considerare come sempre più rilevanti alcuni temi come la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento al cambiamento climatico, l'uso sostenibile, la protezione delle risorse acquatiche e marine, la transizione verso un'economia circolare o la prevenzione e l'addizione dell'inquinamento e naturalmente la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Possiamo dire inoltre portare la testimonianza di quello che sta accadendo in Francia dove c'è già in vigore una regolamentazione nazionale come ad esempio il nuovo articolo 29 della legge energia e clima che è particolarmente attenta a questo tipo di tematica. Posso dire che come UFI stiamo già a proponere tutta una serie di soluzioni di investimento sia in ambito azionario o in ambito obbligazione legate al climate change, fixed income o azioni alla biodiversità perché riteniamo che sia ciò che gli investitori vorranno sempre di più nei prossimi anni anche nuovi prodotti tematici. E allora tornerei, grazie Christophe, da Davide Mascheroni, etica SGR. Affrontiamo il tema di donne lavoro che peraltro sarà anche il tema della maratona di Le Fonti TV proprio in occasione della festa delle donne l'8 marzo ovviamente. Un aspetto importante, un altro aspetto importante che le chiedo è relativo alle donne imprenditrici. Abbiamo sentito prima come ancora per le donne sia difficile avere accesso a posizioni di prestigio all'interno delle aziende. Parliamo anche di casi pratici e allora la domanda è cosa fa etica SGR per la diffusione dei principi inclusion and diversity nell'azienda? E seconda domanda quali sono le azioni adottate per promuovere da voi questi principi nelle aziende su cui investite? Allora, grazie per la domanda, il tema è sicuramente molto molto interessante, come dicevi sicuramente un tema di stretta attualità. Quindi quello che possiamo dire è che come etica SGR da sempre al centro della nostra politica di investimento sostenibile e sostenibile o comunque uno dei fulcri della nostra politica di investimento sono tematiche quali la parità di genere e l'emancipazione della donna. Tra l'altro sono aspetti anche cruciali se pensiamo a quelli che sono già citati, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo numero 5 dei 17 di sviluppo sostenibile è proprio quello legato alla parità di genere. Quindi, ripeto, un tema centrale proprio per gli investitori sostenibili e responsabili. Partiamo magari da quello che facciamo in azienda. Allora, da un punto di vista commerciale posso anche dire che per quanto riguarda l'etica SGR abbiamo annullato il gender gap, nel senso che oggi i sottoscrittori dei nostri fondi per il 52% sono donne. Quindi questo anche, se volete, è una conferma fondamentalmente che l'investimento sostenibile e responsabile è un investimento che è seguito con particolare interesse soprattutto dalle donne. Un'altra cosa che possiamo dire per quanto riguarda la nostra organizzazione aziendale, abbiamo, diciamo così, i generi rappresentati in maniera monogenea e anche e soprattutto con riferimento quelli che sono i responsabili di diversi compartimenti, diversi che compongono appunto etica SGR. Un'altra cosa che mi sento dire, questo che stiamo facendo come etica SGR in sinergia con la nostra capobruppo Banca Etica è un percorso di formazione di tutto il personale del gruppo Banca Etica proprio sui temi della diversity e dell'inclusion e questo lo facciamo con la fondazione di Bellua. Quindi anche questo per rimarcare quello che è sicuramente un interesse importante di tutto il gruppo verso queste tematiche. Ecco, questo per quanto riguarda quello che facciamo noi. Se guardiamo un po' invece agli strumenti che utilizziamo per cercare di portare, diciamo, la parità di genere e temi come questo all'interno delle realtà aziendali in cui investiamo, ci sono sicuramente da un lato la strategia dell'engagement, dall'altra quella ovviamente della situazione ESG. Per quanto riguarda l'engagement, infatti, cerchiamo comunque soprattutto di dialogare con le aziende, un dialogo continuo, il voto in assemblea, questo perché riusciamo in questo modo a sensibilizzare in maniera costante le aziende per migliorare la percezione nei confronti della consapevolezza e, diciamo così, anche per quanto riguarda l'autostima, anche per quanto riguarda aspetti come il ruolo della donna all'interno della società intesa come azienda, all'interno anche della società se la intendiamo come nel suo complesso. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che facciamo, esempi pratici, l'anno scorso abbiamo parlato con le aziende per quanto riguarda l'engagement e soprattutto con riferimento, attenzione alla parità di genere sul luogo di lavoro, abbiamo richiesto alle aziende di risporre delle policy, quindi aziendali che tenessero conto e che mettessero la possibilità di, diciamo così, svolgere un'attività che fosse anche sostenibile, che tenesse conto appunto della diversità e dell'inclusione e altro aspetto fondamentale per quanto riguarda il tema della composizione del CDA e appunto della diversità nella composizione del CDA, che sono cose che richiediamo alle aziende in cui investiamo. Per quanto riguarda invece la parte di selezione SG, anche questa ha un impatto, infatti possiamo ovviamente tramite la nostra attività di selezione andare a favorire quello che facciamo, quelle aziende che si sono già dotate di policy specifiche, stanno già gestendo temi quali la diversità e l'inclusione, che stanno fornendo le pari opportunità alle persone che lavorano in queste aziende. E per dare un esempio ovviamente di quello che stiamo facendo, l'anno scorso nei nostri portafogli azionari le aziende che hanno, diciamo così, delle donne in ruoli dirigenziali sono il 18% di più rispetto a quelle del benchmark azionario, quindi anche questo per dare un esempio concreto di quello che nel nostro piccolo stiamo cercando di fare per un tema così, diciamo così, complesso che però deve essere sviluppato nel tempo. E a questo punto io vado anche da Paolo Proli, dato che Amundi è l'unico asset manager europeo quotato ad avere un CEO donna, insomma anche per voi inevitabilmente è un punto particolarmente importante al vostro interno. Paolo? Sì, hai assolutamente ragione, tra le tre cose è un peccato che sia un vanto dire che siamo l'unica società di gestione con un amministratore delegato donna. Tra le tre cose a me fa piacere perché non è solo Valérie Buzon, quindi la nuova amministratrice delegata globale di tutto il gruppo ad essere donna è anche una donna con una carriera alle spalle già molto importante ma anche molto giovane, quindi dimostra anche l'intenzione di chiusura di gap che sono non solo di genere ma sono proprio anche di generalità e di cultura sul quale stiamo puntando moltissimo ma anche in Italia, ad esempio Cinzia Tagliabue, nostro amministratore delegato italiano proprio su Ammondi Italia, fa parte di quel numero già molto importante non solo di dipendenti donne all'interno di Ammondi che sono il 41% del totale della forza lavoro ma quello che mi piace sottolineare è che è un'azienda che crede nel fatto che la gender equality sia un valore di performance, ossia la miscellanità della cultura del genere porta valore aggiunto a un'azienda nell'eseguire la propria attività, il proprio business model e il fatto di avere quindi già anche il 41% non solo di dipendenti donne in Ammondi ma che sono già anche all'interno dei board of directors, quindi sono nei consigli di amministrazione dell'azienda è significativo perché questo è sicuramente un dato ancora più straordinario se andiamo a guardare le aziende non solo del nostro settore in Europa ma nel resto del mondo e tra le altre cose il 40% gli amministratori locali delle country dove è presente Ammondi sono donne quindi è una cosa diffusa, permeata ed è un valore aggiunto importantissimo e un dato anche molto interessante è che dal 2019 al 2021 in azienda è cresciuto in maniera significativa dal 18% al 30% la partecipazione di donne nei comitati esecutivi. Ecco non è solo una questione di numeri ma una questione proprio di incisività nel modello e fare molta attenzione a questo anche per quanto riguarda ad esempio la genitorialità in Ammondi è significativo anche l'apporto di quello che deve essere la possibilità di dare supporto alla donna che è madre che ha bisogno ovviamente di gestire gli equilibri tra vita privata e lavoro ma anche garantendo il fatto che il marito e quindi anche l'uomo possa tranquillamente utilizzare il sostegno per poter dedicarsi nella prima fase di crescita dei propri figli e quindi poter dare un'alternanza in una famiglia a quella che deve essere la miglior gestione possibile degli obiettivi privati, personali, familiari e del lavoro per l'azienda nella quale si va a lavorare. Indubbiamente non posso fare altro che essere orgoglioso di lavorare in un'azienda come questa, anch'io sono nel consiglio di amministrazione italiano di Amundi e sono un manager che ha fatto vent'anni di carriera in questa azienda quindi posso dire che l'attenzione alle persone, alla loro crescita è importante e mi fa anche piacere che sono anche abbastanza giovane avendo 46 anni e quindi faccio proprio parte un po' di questa cultura aziendale che spero nel tempo, non a caso avete visto abbiamo appena fatto anche una pubblicità importante europea anche in televisione in Francia, in Italia, in Germania proprio perché vorremmo vedere il mondo del lavoro in un modo diverso c'è questa bella immagine di questa donna che sta camminando in un mondo tutto maschilista dove le donne non sono nemmeno incluse nell'attività del lavoro e poi camminando praticamente va al reverso in un mondo dove il mondo del lavoro include differenze culturali, di genere e di età e questo secondo me è un messaggio bellissimo che spero di vedere nel tempo in tutte le aziende dalle industrie a in tutti i settori. Avete un po' ammiccato anche a Inception, ce l'ha dire questo, un po' Inception, un po' un po' l'ultimo Spider-Man però sì è uno spot sicuramente molto che colpisce insomma che ruba l'attenzione. Christophe Mallet, grazie ovviamente a Paolo Proli, Christophe Mallet sappiamo come gli asset manager si debbano interfacciare con differenti interlocutori da una parte le aziende, dall'altra la clientela retail, dall'altra ancora clienti istituzionali. le esigenze, quali sono le esigenze di questi tre interlocutori? Soprattutto rapportandole alle tematiche ESG, ovviamente gli strumenti per mediare questo difficile, lo vogliamo chiamare equilibrio, Christophe? Allora, le aziende, siamo veramente convinti da tempo che le aziende che integrano le tematiche ESG nel loro business model, siamo anche quello che offrono i migliori prospettive e che creano valore nel lungo periodo e che propongono, che sono capaci di garantire performance molto interessanti. Dunque il nostro ruolo è quindi quello di selezionare con il massimo rigore le aziende più posizionate per giocare un ruolo sostenibile nell'economia di domani e siamo convinti che non saranno in grado di creare valore a lungo termine nella grande trasformazione della loro pratica ed è qui che si vede il vero valore aggiunto di un asset manager nel fare attività di screening selezionando solo le migliori. L'approccio delle società di risparmio gestito non può essere esclusivamente passivo, fondamentale per noi è tutta l'attività di engagement, di segnalizzazione degli possibili aree di miglioramento che le società possono mettere in atto. Dunque l'approccio di Office and Management si basa su un dialogo continuo con gli organi di governo delle società quotate durante riunioni speciali e anche in particolare durante le assemblee generali. Questa attività di dialogo e di stimolo è veramente fondamentale. Solo quando ci troviamo di fronte ad aziende che non vogliono cambiare il proprio approccio, l'ultima arma che abbiamo a disposizione è quella del disinvestimento naturalmente. Diverso è il discorso quando si guarda agli investitori che siano istituzionali o privati. Devo dire che in particolare modo il mercato degli investitori istituzionali in Francia ha mostrato prima di altri una particolare attenzione alle tematiche SRAE anche a seguito di una regolamentazione francese che li ha spinti a costruire i propri portafoli tenendo conto di questi principi. Ovviamente però gli investitori sono molto attenti anche alle performance finanziarie di queste aziende, ma la pratica ha dimostrato che i fondi di investimento che seguono criteri ESG riescono a garantire spesso delle ottime performance. Ma la grande sfida penso per gli asset manager che la nostra entusiasmo si trova ad affrontare adesso è quella del retail, dei clienti privati. E su questo fronte che servirà un grande impegno anche nel educare, spiegare e nel progettare di un'offerta a misura per loro. Io crediamo che la regolamentazione SDA sia di grande aiuto per questo obiettivo grazie alla classificazione dei fondi. Ma aspetta però la società di gestione adattare il proprio marketing, istruire al meglio la propria forza vendita per chiarire e sopportare i singoli investitori nelle loro scelte di investimento. Dunque l'accompagnamento sarà un elemento fondamentale che ancora una volta distinguerà gli asset manager più virtuosi da quello meno. Ed è la nostra Asset TV Week, lo ricordo, il titolo, il tema SG tra guerra e climate change e materie prime. L'ultima domanda che rivolgo ai nostri ospiti, Davide Mascheroni, responsabile area partner commerciale etica SGR, Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive, board member Amundi SGR e Christophe Mallet, Head of International Business Development of Asset Management. Christophe, rimango da lei se è d'accordo. Per introdurre in questa tavola un termine di cui si sente parlare da un po' di tempo ed è molto attuale a tuttora. In questi giorni si sentirà sempre più parlare. La parola è tassonomia, un termine che sottende a un documento europeo che analizza i diversi settori economici e pone delle linee guida per un minor impatto ambientale. Ci sono settori che sono naturalmente low carbon, quelli per la stessa natura non lo sono, e poi settori che sono a supporto dei primi due. affrontiamo insieme a voi, ovviamente accarezzandolo perché il tempo non è tantissimo, il tema energetico, in particolare la transizione energetica, un tema ancora più attuale considerate i recenti sviluppi, lo dicevo, che hanno portato alla ribalta nuovamente il nucleare e adesso lo è, ma per altri motivi, ovviamente causa conflitto e perché è diventato evidentemente un obiettivo di Vladimir Putin. E allora chiedo a tutti voi, partendo da Christophe, a che punto siamo? Qual è il vostro approccio di investimento rispetto al tema energetico? Prego, Christophe. Grazie, allora il nostro approccio agli investimenti nel settore dell'energia è veramente pragmatico e basato su prove scientifiche. Innanzitutto abbiamo analizzato con scrupolo i settori e le attività più carbon intensive dei nostri portafogli al fine di identificare i rischi climatici con essi. Per questo motivo nel 2018 è stata attuata una politica sul carbone per escludere tutte le aziende adesso legate da tutti i nostri fondi aperti. Dopo abbiamo utilizzato i dati dedicati delle ONG sull'industria del carbone per identificare i prodotti e gli sviluppatori di carbone. Questa politica è stata poi ampiamente adottata dal settore finanziario e quanto nel frattempo sono state sviluppate alternative all'utilizzo del carbone, i prezzi del carbone si sono rivelati non essere più attreanti da un punto di vista economico. Il settore successivo a cui abbiamo prestato la tensione dopo il carbone è quello del petrolio e del gas. Abbiamo fissato un calendario nel 2021 che porti a un'uscita completa dei nostri fondi da tutte le società che producono petrolio. Abbiamo iniziato a disinvestire completamente dai produttori di petrolio e gas non convenzionali, no, vale a dire produttori di petrolio e gas di scisto e produttori di sabbie bituminose e i più carboni intensivi. Abbiamo definito un calendario progressivo per eliminare gradualmente l'intero settore entro la fine del 2050. Nel frattempo usiamo la nostra attività di engagement per coinvolgere le aziende del settore e chiedere loro di accelerare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. Abbiamo anche partecipato a diverse iniziative degli azionisti nel 2020 e nel 2021 per spingere i produttori di petrolio a definire la loro strategia climatica in linea con gli obiettivi dell'accordo di Paregi. In questo dibattito molto attuale, energia nucleare, la sua domanda si trova in una zona grigia. Esperti scientifici conferono che il nucleare è una tecnologia a basse emissioni di carbonio, così come istituzioni internazionali quali l'Agenzia internazionale per l'energia che il Canada guarda dai paesi dell'OSE per quanto riguarda le questioni energetiche. Nonoste tutto questo, il Green Label di Francia e il Luxemburgo hanno escluso l'energia nucleare sia per motivi di sicurezza che in relazione ai rifiuti nucleari e al consumo anche eccessivo di acqua. Non abbiamo escluso il settore nucleare dai nostri investimenti principali, tuttavia valutiamo tutti questi rischi ambientali e sociali del settore. Infine possiamo dire che la tassonomia è fondamentale in quanto definisce i settori dell'economia in cui l'Europa vuole vedere flussi di investimento e cerca anche di porre fine a questi dibatti ambientali su quello che è Green e quello che non è Green. È così che si possa tutti attivare per un mondo più verde. Recentemente alcune ONG hanno criticato le influenze politiche di alcuni paesi riguardo l'integrazione dei combusti di fossili in questo elenco. Ma nel frattempo la nostra società sta raccogliendo dati per valutare i propri portafogli e quelli dei propri clienti secondo questa classificazione. Confermiamo che gli investitori istituzionali stanno sempre più definendo le loro linee guida all'investimento verso soluzioni che aumentino l'esposizione ad aziende Green nei loro portafogli e sono pronti a disinvestire di asset che sono legati a forti emissioni di carbonio. È un tema attuale, interessante anche per certi versi divisivo oltre che comunque molto molto dibattuto. E allora Davide, sentiamo Davide Mascheroni, Etica SGR. Il tema, lo ripeto, la tassonomia. Prego. Sì, diciamo che andiamo subito al nocciolo della questione. Effettivamente in Etica SGR siamo stati abbastanza sorpresi della scelta della Commissione Europea di inserire poi alla fine sia il gas naturale che il nucleare all'interno della tassonomia. Anche perché se guardiamo un po' il Teg, che era il gruppo di esperti che era stato proprio chiamato dalla stessa Commissione Europea a identificare le attività sostenibili per raggiungere l'obiettivo di emissionizzazione del 2050, aveva escluso dalla tassonomia entrambe le attività. Quindi sicuramente un po' c'è stata sorpresa anche perché oramai ci sono un po' diversi esperti che sostengono che il gas è una fonte comunque energetica climaalterante da un lato, dall'altro come ricordava poi anche il collega poco fa, non è tanto un tema di emissioni di gas climaalteranti per energia nucleare, quanto piuttosto di sicurezza delle centrali e anche di smaltimento delle scorie radioattive. Esistono effettivamente delle tecnologie nuove che però dovrebbero essere ancora implementate, che potrebbero ridurre, diciamo così, aumentare la sicurezza delle centrali, del processo di produzione dell'energia e al contempo rendere l'energia nucleare ancora più verde, però sicuramente è un qualcosa che oggi non è disponibile e se stiamo parlando di transizione ci vorrà del tempo, ci saranno dei costi magari sulla collettività e quindi sicuramente, probabilmente, secondo noi è, diciamo così, un qualcosa da monitorare con particolare attenzione. Anche perché, e questo è vero, le fonti di transizione avrebbero comunque essere continuate a essere finanziate temporaneamente dalla finanza, chiamiamola tradizionale, mentre, secondo noi, inserirle nella tassonomia, anche in questo caso, come dicevo, non può che comportare un ritardo nel processo di transizione e come dicevamo anche prima, se si sta parlando di cambiamento climatico, se si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati sul clima di Parigi, bisogna fare sicuramente in fretta. Quindi questo secondo noi è un tema che, diciamo, bisogna guardare con particolare attenzione, forse come nel nostro caso investitori sostenibili e responsabili, pur rendendoci conto che c'è un problema di approvvigionamento energetico, oggi la scelta, l'unica soluzione per contrastare il cambiamento climatico ed eventualmente anche cercare di mitigare le disguaglienze che possono derivare dai processi di transizione, può essere quella di puntare sulle fonti rinnovabili. Noi in Etica SGR lo facciamo fin dalla nostra nascita, nel senso che andiamo a identificare le aziende che hanno posto al centro del loro modello di business proprio strategie, volte la decorbonizzazione, volte la riduzione della dipendenza delle forti fossili. Fin dalla nostra nascita escludiamo le aziende dei settori più inquinanti come il petrolio e anche il carbone, per quanto riguarda invece le aziende coinvolte nel business del gas naturale abbiamo recentemente reso un pochettino più restrittiva la nostra politica di investimento, cercando di individuare caso per caso le aziende che effettivamente stiano portando degli impegni concreti nei confronti appunto della transizione, proprio perché se c'è un contributo a positiva transizione queste aziende saranno inserite all'interno dei portafogli a dei nostri fondi, altrimenti resteranno sicuramente fuori. Quindi questi sono un po' degli aspetti che mi premeva sottolineare. Un'altra cosa, noi come Etica SGR sul cambiamento climatico abbiamo proprio lanciato un fondo che si chiama Etica Impatto Clima, è un fondo bilanciato perché cerchiamo di investire non solo nelle imprese ma anche negli stati che hanno diciamo così posto al centro del loro modello di sviluppo politiche per cercare di ridurre le emissioni di gas e clima alteranti verso un'economia a basso impatto di emissioni appunto di CO2 e questo lo facciamo però avendo sempre presente un altro tema che è quello sociale perché lato nostro la sfera ambientale e quella sociale devono essere portate avanti contemporaneamente, c'è una forte correlazione quindi dal punto di vista sociale cercavamo di identificare quelle aziende che stanno facendo la cosiddetta transizione giusta, cioè stanno cercando anche di minimizzare se possibile quelli che possono essere gli impatti per la comunità e per i lavoratori delle appunto politiche di eh transizione ambientale. Chiudiamo il giro con Paolo Proli, Amundi, SGR, il tema come detto insomma è più che interessante. Paolo? Ah certo, è di estrema attualità diciamo che l'energy transition è il concetto fondamentale sul quale insomma dal summit del 92 a Rio de Janeiro abbiamo messo in relazione proprio quelle tre lettere ESG partendo proprio dall'impatto dell'attività dell'essere umano sul pianeta. Abbiamo 860 exa joule di eh consumo primario di energia all'anno eh sappiamo che l'energia eh emette i due terzi del carbon fossile nell'atmosfera al mondo e quindi è il tema eh per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici prendersi e rendersi conto di quanto sia anche urgente ormai eh l'impegno che tutti dobbiamo prendere gli investitori, gli imprenditori, le aziende, i policy maker perché la temperatura si è già alzata di un grado punto uno rispetto al 1769 l'invenzione della 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 macchina a vapore e e sicuramente l'energia deve attraversare una quarta rivoluzione no energetica dal fuoco dall'invenzione del fuoco diciamo dall'utilizzo del fuoco all'era neolitica a eh ovviamente l'utilizzo di della macchina a vapore, carbone, petrolio, oggi dobbiamo sicuramente vedere il ventunesimo secolo come secolo delle energie rinnovabili per cui a aiutare tra virgolette anche attraverso gli strumenti di investimento e i finanziamenti a generare opportunità in più ben venga tanto è vero che anche la nostra posizione non è negativa nemmeno sul concetto di nucleare e di gas inteso come nei nei vettori climalteranti che sappiamo che l'ottanta per cento della produzione energetica è fatta da carbone, petrolio e gas che sono climalteranti ma solo l'undici per cento oggi al mondo è fatto da energia rinnovabili quindi non ce n'è abbastanza di energia rinnovabile ad oggi e soprattutto non è prodotta in maniera semplice e vicina all'utilizzo per cui c'è anche l'alternanza che è una grandissima problematica perché solare e eolico non sono immagazzinabili per cui da questo punto di vista devono avere non un'alternanza ma un utilizzo diretto per questo è molto importante anche vedere degli ecosistemi nuovi che possono includere le innovazioni anche nell'ambito del nucleare dal nostro punto di vista non a caso abbiamo anche fatto delle verticali sull'energy transition anche proprio come strumenti articolo 9 abbiamo lanciato il primo fondo al mondo a dicembre che investe nell'ecosistema dell'idrogeno tra le altre cose stiamo proprio realizzando in questi giorni il primo summit italiano sull'idrogeno che il 15 di marzo spero per chi avrà modo di vederlo porterà tantissima informazione di informazione sul tema di questa fonte energetica che è un vettore che può dare tre volte l'energia ad esempio della benzina però ovviamente oggi è all'inizio di un viaggio di un percorso l'energy transition non si fa in pochi anni si farà in decenni però abbiamo assolutamente bisogno di calmirare questa crescita della temperatura media terrestre che se no ci vede come traiettoria oggi più verso i 2.6 gradi di aumento e non il contenimento all'interno di un grado punto 5 entro il 2050 quindi siamo già in ritardo il carbon budget di 500 gigatonnellate l'IPCC ci ha fatto vedere proprio prima della copp 26 le traiettorie e al 50 per cento di probabilità noi per rimanere lì quindi avremo dieci anni più o meno no di budget di emissione perché più o meno ad oggi l'ultimo anno la rilevazione della nostra attività sul pianeta è quella di produrre 50 gigatonnellate di co2 nell'atmosfera indubbiamente questo è un tema urgente lo scenario di guerra e quello che sta succedendo in questi giorni ovviamente ha portato non solo la transizione ad essere al centro ma anche l'indipendenza energetica essere al centro dell'attenzione di tutti io mi auguro semplicemente che soprattutto per quello che stiamo proprio affrontando in questi giorni con un dramma anche sui diritti umani e su quello che è la condizione veramente come diceva prima il collega Davide penso che la just transition sarà il tema più importante di tutti nei prossimi 10 15 30 anni perché dovremo transitare verso un mondo migliore meno pollutivo meno meno emittente ma senza danneggiare l'essere umano che poi è lo scopo no di tutto questo noi dobbiamo accogliere altri due miliardi di persone da qui a 2050 e quindi le cose le dobbiamo fare meglio e quindi il messaggio con cui vi vorrei anche salutare questo oggi è proprio questo la transizione ci deve essere deve essere urgente ma deve essere assolutamente giusta e noi continueremo a parlare di questi temi in generale insomma del tema ESG in un contesto che adesso è quello che vedete nel nostro titolo ma che sarà sicuramente in evoluzione da qui alle prossime alle prossime settimane e allora io ringrazio perché anzi probabilmente continueremo a farlo anche con l'aiuto degli ospiti che sono stati con noi in questa tavola rotonda Asset TV Week grazie a Davide Mascheroni responsabile a partner commerciale etica SGR Buon lavoro a Paolo Proli Head of Retail Division and Executive Board Member Amundi SGR e scusate Christophe Malle Head of International Business Development Office Asset Management grazie e alla prossima grazie grazie a voi grazie adesso noi ci fermiamo alla ripresa riprendiamo le redi del mercato con i nostri approfondimenti consueti i nostri ospiti i nostri analisti rimanete con noi grazie a tutti grazie a tutti